una domenica militarizzata per il disinnesco dell'ordigno bellico giorni decisivi per la candidatura di riccia segretario pd la provincia trasloca e punta sul cinema metropolis ai musei civici la palla del bellini diventa accessibile e non vedenti sabato e domenica c'è valle foglia d'autunno buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le notizie di rossini news con il nostro telegiornale che in questo venerdì 2 di dicembre apriamo facendo un passo avanti verso la domenica molto particolare che attende parte della città di pesero in particolare quella vicina al casello autostradale quella della zona di case bruciate che per circa sette ore sarà evacuata per le operazioni di disinnesco e di brillamento di una bomba della seconda guerra mondiale una bomba d'aereo che fu ritrovata nel mese di ottobre proprio in questa zona un ordigno di circa mezza tonnellata e tutti i dettagli di evacuazione e bonifica vengono spiegati in questo nostro primo servizio ha sonnecchiato sottoterra in esplosa per oltre 70 anni ora però domenica 4 dicembre deflagrerà tramite un brillamento controllato la bomba d'aereo della seconda guerra mondiale trovata il 18 ottobre scorso in strada montefeltro dove ci troviamo ora un ordigno bellico che si trova alle nostre spalle si intuisce anche oggi venerdì dall'assetto militarizzato con l'esercito che provvede alle operazioni propedeutiche alla bonifica dell'area interessata dalla bomba e al successivo disinnesco di domenica ci troviamo infatti a due rotatorie dal casello autostradale di pesaro in una zona molto trafficata in orario feriale lavorativo zona che invece si presenterà desertica domenica mattina quando gli unici esseri umani che potranno circolare saranno gli artificieri dell'esercito artificieri del genio militare di castelmaggiore di bologna che si occuperanno delle operazioni di disinnesco e di trasporto della bomba nell'area in cui verrà fatta brillare si tratta degli stessi artificieri che un mese e mezzo fa furono allertati nel momento in cui gli operai dediti agli scavi propedeutici alla realizzazione della cosiddetta bretella gamba si imbatterono in quell'ordigno di 450 chili di fabbricazione americana ancora armata di spolette in attività e dunque quella del 4 dicembre sarà una domenica davvero in assetto militarizzato già dalla scorsa settimana la prefettura di pesaro ha comunicato il piano di evacuazione che interesserà circa 900 residenti della zona in particolare quelli delle quartiere di case bruciate dovranno infatti essere lasciate obbligatoriamente le abitazioni nel raggio di 750 metri al luogo del ritrovamento della bomba e al percorso dell'ordigno verso il luogo del brillamento le operazioni di evacuazione dei residenti andranno completate fra le 6 e le 8 di mattina con un rientro nelle abitazioni previsto per le 15 ma che potrebbe anche essere anticipato fra le 8 e le 9 forze di polizia e protezione civile perlustreranno come le zone in questione siano effettivamente deserte e attorno alle 9 gli artificieri procederanno con le operazioni di bonifica e disinnesco la maggior parte degli evacuati troverà sistemazione per sette ore da parenti amici ma per chi non saprà dove alloggiare è stato predisposto un centro d'accoglienza alla vitrifrigo arena che sarà aperto dalle 7 del mattino con servizi igienici e fornitura di bevande circa una decina di soggetti fragili che saranno evacuati verranno invece ospitati nella struttura sanitaria di galantara mentre i soggetti positivi al covid che sono attualmente in isolamento saranno trasportati dal 118 presso la clinica santo stefano di macerata feltria case evacuate e strade chiuse strada monte feltro sarà interrotta per 5 chilometri fra borgo santa maria e la rotatoria della concessionaria lazzarini e ricordiamo soprattutto la chiusura del casello autostradale di pesero così come sarà interrotta la circolazione in a 14 nel tratto compreso fra fano e gabice mare gli artificieri dureranno all'incirca tre ore tra disinnesco trasporto e brillamento della bomba in strada stroppato presso la ex cava della pica parliamo di politica occupandoci del sindaco di pesero matteo ricci attorno al cui nome cresce il credito di una candidatura segretaria nazionale del partito democratico anche per l'approvazione di esponenti di spicco dem che sono emerse negli ultimi giorni e che abbiamo anche argomentato nelle ultime edizioni del nostro tg proprio oggi è arrivati a dicembre ricci si è esposto così sull'argomento dopo bettini dopo orlando sono arrivate diverse le approvazioni comunque per il suo ruolo verso una possibile candidatura verso il segretario del pd ma intanto sono già molto onorato perché chi come me è cresciuto a pane politica essere solo nei nomi papabili è già come dire una grande soddisfazione del frutto del lavoro di questi anni e anche credo di una linea politica che stiamo tenendo siamo gli unici che hanno preso gli unici no però diciamo tra i pochi che hanno preso sul serio la costituente abbiamo oggi stiamo girando l'italia in lungo in largo in quella provincia italiana che ci ha voltato le spalle negli ultimi dieci anni e abbiamo proposto già dieci punti che mettono al centro riscatto sociale un nuovo modello di sviluppo e l'abbiamo fatto anche dicendo chi secondo noi dobbiamo rappresentare cioè chi soffre il lavoro e chi rischia per creare lavoro e coloro che si battono per salvare il pianeta e quindi abbiamo dato un contributo tematico molto importante si è aperta una discussione e gli apprestamenti che abbiamo avuto sono molto importanti poi per le candidature ufficiali ancora c'è tempo vediamo come evolve la situazione nelle prossime settimane giorgio tornati questa mattina era in una conferenza pesaro ha detto che si rischia però con l'idea del pd di spostarsi sempre più verso sinistra di snaturare un po il il senso e il valore della fondazione del pd del 2007 2008 si può andare verso quel rischio e quel pericolo ma dobbiamo essere molto attenti perché in questo momento il pd sta subendo un opo ostile no da una parte il terzo polo dall'altri cinque stelle quindi questo deve essere il momento giusto nel quale noi dobbiamo definire la nostra linea io penso che dobbiamo tenere la barra più a sinistra perché noi abbiamo perso i ceti popolari e quindi quei ceti popolari che magari a pesaro mi hanno votato ma che a livello nazionale non votano il partito democratico è un centro sinistra che non rappresenta i ceti popolari è un centro sinistra che non ha futuro dall'altra però il partito si governa sempre dal centro del partito stesso e dobbiamo avere ben chiaro il valore dell'unità per questo sono anche un po preoccupato di questo congresso non deve essere un congresso che divarica deve essere un congresso che definisce una linea chiara ma pur salvaguardando l'unità che un valore fondamentale soprattutto in un momento come questo quindi questo il contributo che stiamo dando speriamo di dire la nostra però ecco dal punto di vista personale dei tanti amministratori che mi hanno accompagnato in questi due mesi si è già una grande soddisfazione per avere in qualche modo inciso nella discussione e al tempo stesso dato un contributo di prospettiva vedremo e proprio il sindaco di pesaro mattiori ci ha colto oggi nei nostri studi di rossini tv ha commentato così il quinto compleanno della nostra emittente devo fare i complimenti innanzitutto a manuela rossi perché con determinazione ha costruito questo progetto e grazie a tanti collaboratori e soci è riuscita a mettere in campo una realtà ormai strutturata cinque anni significa aver raggiunto un bel risultato aver superato tante diffidenze che c'erano all'inizio io stesso non pensavo che potesse reggere così forte entrare nell'immaginario della città in maniera così forte invece aveva ragione lei va dato atto ed è una tv ormai il riferimento della città e tante persone la seguono ed è anche una grande opportunità per il comune perché grazie a questa tv noi siamo riusciti meglio a comunicare i servizi a comunicare le iniziative a comunicare l'appil turistico e quindi è davvero un grande servizio pubblico che questa tv privata fa quindi davvero complimenti per quello che è stato fatto anche per il rilievo che si dà allo sport locale alle eccellenze locali alle imprese del nostro territorio quindi davvero un arricchimento non soltanto del sistema comunicativo ma complessivamente del nostro territorio quindi viva rossini tv e ci vediamo tra cinque anni a festeggiare il decennale e ringraziamo davvero il sindaco matteo ricci per le belle parole spese nei confronti del nostro lavoro e cambiamo argomento e parliamo della amministrazione provinciale sempre più decisa a traslocare dallo storica da storica sede del palazzo in via gramsci nel giro di due anni l'amministrazione provinciale punta a traslocare dallo storico palazzo di via gramsci un'esigenza già esternata mesi fa e che ora diventa sempre più pressante alla luce di mesi in cui il caro energia sta diventando una voce troppo destabilizzante all'interno di bilanci pubblici che incidono su una sede già eccessivamente sovradimensionata rispetto alle attuali esigenze dell'ente sì sì io ricordo sempre che una volta nei tempi d'ora delle amministrazioni provinciali noi eravamo arrivati ad avere 700 dipendenti oggi siamo 210 la struttura è una struttura di più di 7000 metri quadri e sulla base degli standard ministeriali per noi sarebbe sufficiente una struttura di 3000-3200 metri quadri quindi sicuramente sovradimensionata ma non solo questo anche dove ho l'ufficio io questa sede qua che chiamiamo la nuova sede è un edificio costruito negli anni 60 che necessita interventi molto importanti e costosi di adeguamento sismico ma anche da un punto di vista dell'efficientamento energetico è un edificio che ha tanti problemi a partire dagli infissi alla centrale termica impianti vecchi quindi richiederebbe investimenti importanti quindi stiamo ragionando sì sulla sulla possibilità di trasferirci in un'altra sede dopo diverse ipotesi ventilate in questi mesi l'area delle cinque torri del cinema metropolis sembra la destinazione adeguata a parere della stessa amministrazione poi dovremmo fare chiaramente una procedura di evidenza pubblica quindi un avviso pubblico dire quale edificio stiamo cercando con quali caratteristiche però ho già individuato un qualche cosa che potrebbe interessarci nell'area del campus scolastico questo è interessante perché noi stiamo lavorando sull'ipotesi di realizzare un impianto fotovoltaico a copertura di tutti i parcheggi del campus scolastico e questo impianto mi dicono i tecnici potrebbe rendere autosufficiente il campus scolastico da un punto di vista energetico ma potrebbe anche produrre energia per un'eventuale nuova sede della provincia lì in quell'area. Un'area individuata nel metropolis dove potrebbe partire il nuovo ciclo di presidenza di Giuseppe Paolini unico candidato alla rielezione del 18 dicembre. Attraverso un comunicato stampa oggi Marche Multiservizi ha comunicato di aver ricevuto segnalazioni in seguito a interruzioni di pubblica illuminazione. Marche Multiservizi si è infatti attivata alla ricerca delle cause con l'obiettivo di riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile e anche smettendo che questi spegnimenti rientrino in una attività di risparmio energetico. Nei giorni scorsi infatti si è registrato il danneggiamento di una colonnina di derivazione in via canale in seguito ad un atto vandalico. Questo ha avuto ripercussioni nell'illuminazione di diverse vie in zona porto. Tra le cause ci sono anche lavori realizzati da terzi che hanno interessato canalizzazioni della pubblica illuminazione aumentandone la vulnerabilità alle infiltrazioni d'acqua. Marche Multiservizi dunque comunica di essere tempestivamente intervenuta ripristinando il normale servizio di illuminazione e si augura anche che voci circa la volontà di risparmiare energia grazie alle interruzioni risultino soltanto battute scherzose. Nel mare di Fano è stata posizionata questa mattina un'isola in miniatura in grado di fornire dati in tempo reale sull'ambiente marino. Si chiama Boa Fortuna ed è stata posizionata da un'equipe di studiosi del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Istituto IRBIM CRNN. Grazie alle immagini acquisite dalla Boa Oceanografica i ricercatori del Fano Marine Center potranno avere un sistema di monitoraggio che fornirà una serie di parametri ambientali fondamentali per lo studio del mare. La Boa rappresenta un esempio unico di laboratorio marino d'altura e a due miglia dalla costa è lunga a sei metri di cui due metri e mezzo immersi e a un peso di una tonnellata. È un laboratorio autonomo che trae energia dal sole e comunica utilizzando un router cellulare. Equipaggiata con un set di sensori meteorologici organizzati come stazione meteo permette di ottenere osservazioni proprio in mare dove in genere c'è una minore copertura osservativa. Consente infatti di ottenere misure di temperatura, salinità e ossigeno oltre ad avere un sensore per il monitoraggio del moto ondoso. E domani sabato 3 dicembre alle ore 16 a Villa Betti verrà inaugurato Betti, nuovo centro di aggregazione giovanile dedicato a ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni che vivono nel territorio di Monte Ciccardo. Il centro coordinato dalla cooperativa Labirinto è un servizio voluto dall'amministrazione pesarese per promuovere il benessere sociale di bambini e adolescenti attraverso interventi che attivano relazioni favorendo il senso di appartenenza alla comunità, la cittadinanza attiva e l'integrazione culturale e di genere e allo stesso tempo uno strumento per prevenire disagio giovanile, bullismo e dipendenze. Si chiama Musei a Contatto, l'interessante progetto che oggi ha preso forma ai musei civici di Pesaro in cui l'opera della Pala delle Bellini è diventata una forma d'arte apprezzabile anche da non vedenti come possiamo ascoltare nelle interviste raccolte dal nostro Paolo Pagnini. Siamo con Maria Mencarini, presidente della sezione di Pesaro dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Siamo qua per questa giornata straordinaria nella quale ai musei civici a fianco dell'opera della Pala del Bellini viene posata un'opera importante. Ci facciamo spiegare perché proprio da Maria Mencarini. Sì, veramente direi che è un giorno importante ma importante non solo per noi ma soprattutto per la città di Pesaro, per la comunità di Pesaro perché il dono che la nostra sezione fa alla città è un dono di bellezza, è un dono di cultura ed è un dono di inclusione. Abbiamo deciso di intraprendere questo progetto che è stato veramente faticoso perché è un anno che ci stiamo lavorando dietro grazie al sostegno dei fondi dell'8x1000 della Chiesa Valdese. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato un basso rilievo prospettico della Pala del Bellini. Perché? Perché questa scelta? Perché il basso rilievo prospettico farà vedere e quindi farà godere della bellezza della Pala tutte le persone con disabilità visiva che decideranno di venire a visitare questo museo. Si può considerare questa vostra una nuova forma d'arte? Diciamo che è un'eredità dell'arte. In questo caso abbiamo la traduzione dell'opera d'arte che è un fondamentale per capire appunto come poter accedere a un'opera d'arte in modo tattile. Abbiamo anche capito che è stata fatta questa scelta di fare il lavoro dal puntista proprio manuale in un momento in cui la tecnologia farebbe quasi pensare a una scorciatoia, alla via più facile, quella della stampa in 3D. Esatto. Noi preferiamo come staff del Museo Onteros e dell'Istituto Cavazza eseguire le opere in modo manuale proprio perché ci permette nel tempo, nelle varie fasi di lavorazione del basso rilievo o anche di disegno a rilievo tattili con la tecnica Minolta, di testare continuamente in corso d'opera il lavoro e questo ci permette di capire anche le eventuali correzioni, eventuali ripensamenti che si possono fare sull'opera. Oggi è la mia prima uscita da assessore alla cultura, le pari opportunità nella città di Pesaro e una giornata è molto importante proprio per la città. Sì, allora io oltre che ai deleghi alla cultura, sport, istruzione e anche alle pari opportunità e oggi mi piace sottolineare proprio questo aspetto perché perlomeno nell'accezione che io voglio dare a questa delega non è solo quella dell'aspetto diciamo del superamento del gap tra il genere ma anche e soprattutto per parlare di inclusione e sicuramente oggi l'inaugurazione di questa scultura che consente anche ai non vedenti di poter toccare con mano e non solo, quindi di capire e di percepire le bellezze artistiche è sicuramente anche in questo caso un superamento di quelle che sono le barriere culturali e sociali. E vi ricordiamo che potrete approfondire questo straordinario momento di arte inclusiva nello speciale che Rossini TV trasmetterà martedì 6 dicembre alle ore 20 e 10. Ma restiamo in tema di arte per parlare della nuova collaborazione nata fra la Fondazione Meuccia Severi e l'Accademia Raffaello di Urbino. Fra le meravigliose mura di Villa Meuccia Severi con le sue stanze adornate di un'altra di incantevoli opere d'arte si è stipulata ufficialmente la collaborazione tra l'Accademia Raffaello di Urbino e la Fondazione Meuccia Severi. Un accordo per l'anno 2023 che prevederà un continuo scambio artistico e culturale ponendo le basi anche per un rinnovato sodalizio futuro. Il contro tra l'Accademia Raffaello e la Fondazione Meuccia Severi ha una sua concretezza molto semplice. Si tratta di sostenere le attività che regolarmente l'Accademia promuove il che significa mostre, pubblicazioni, conferenze. Cosa significa? Che dal 2023 queste conferenze, pubblicazioni e mostre avranno un sostegno che consentirà evidentemente di realizzare al meglio ciò che non si riusciva a realizzare come effettivamente si desiderava e soprattutto saranno non solo il prodotto di una istituzione ma il prodotto dell'incontro tra due istituzioni. Conferenze e mostre che si svolgeranno in due luoghi già individuati dove l'arte è di casa. Ad aprirsi a queste iniziative saranno proprio le porte della casa di Raffaello Urbino dove c'è la bottega di Giovanni Santi, una sala che solitamente è destinata ad ospitare mostre. E a farlo sarà anche la sede della Fondazione Severi tra le sale della villa nel quartiere di Montegranaro di Pesaro. L'arte è necessariamente la base di tutto, tanto della Fondazione Muccia Severi quanto proprio statutariamente dell'Accademia Raffaello che già per il semplice fatto che possiede la casa di Raffaello e promuove le arti come da sempre dal 1869 anno della sua fondazione quindi sicuramente quello che va a crearsi è una collaborazione, una sinergia verso una presenza più consistente dell'arte nella quotidianità. Solo arte di tutti i tempi, ieri, oggi e domani. La passione per l'arte di Meuccia Severi nasce dall'amore incondizionato del bello in cui il presunto obbligo di una scelta tra antico e moderno non le apparteneva. Una cura dei dettagli che la resa negli anni 50 una pioniera dell'imprenditoria al femminile. Il mondo del tessile è esplorato nella sua città d'origine carpi con la realizzazione di cappelli passando al settore delle maglie una volta dislocata a Pesaro. Da lì il suo successo fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2019 anno della nascita effettiva della Fondazione Meuccia Severi. Nata nel 2009, poi portata a suo totale compimento da scopi statutari nel 2019 laddove tutto il patrimonio che anche oggi abbiamo visto, fatto appunto di questa sede ma anche e soprattutto di tutte le opere contenute e raccolte nel corso di una vita da Meuccia Severi stessa, sono confluite. La Fondazione Meuccia Severi ha degli scopi statutari di cui è innanzitutto una fondazione senza scopo di lucro che ha come scopi statutari principali quello della conservazione e della messa a disposizione appunto della comunità, del patrimonio artistico-culturale che vediamo ma anche quello di promuovere iniziative e anche scopi di sostegno nel mondo del disagio sociale e della beneficenza che poi anche questi sono in continuità con la vita stessa della fondatrice. E domani e anche domenica 4 dicembre Montecchio ospiterà la terza edizione di Valle Foglia d'autunno fra spettacoli, intrattenimento, degustazioni e tipicità. Questo evento di sabato e domenica è molto importante, è quello di valorizzare tutti i prodotti tipici di questa vallata, l'autunno di Valle Foglia qui in via Piola Torre, in questo centro commerciale nella città di Valle Foglia tendiamo a valorizzare dal punto di vista turistico e no gastronomico della bella agricoltura e buona agricoltura che ancora c'è nonostante che siamo una città industriale che è un'altra città industriale. Il tartufo bianco e nero che c'è come in altri luoghi, l'olio extravergine d'oliva, il nuovo olio che è davvero straordinario, ha un profumo eccezionale e poi una nuova attività produttiva come quella del melograno, sono almeno una quarantina nella vallata del Foglia e le aziende che fanno questo tipo di produzione che fa anche bene alla salute e poi il miele che è un altro dei prodotti tipici di questo territorio, se uno va oggi nel mercato di Montecchio vede quanti di questi prodotti di cui dico ci sono in questa vallata. E non per ultimo il buon vino, non solo il vino della Morciolo, il vino del Conventino, il vino di questo territorio delle Marche, del nord delle Marche, della vallata del Foglia. Sono tre gli eventi diciamo su cui abbiamo puntato per coinvolgere maggiormente il pubblico, il primo è sabato alle 16, una sfilata di moda con la partecipazione del negozio specializzato di Montecchio Baby Nut e quindi abbigliamento da zero a dieci anni, sarà molto tenero vedere questi bambini sfilare. Poi domenica invece sempre alle ore 16 sul palco ci sarà Bicio, l'antidepressivo naturale o barzalettire d'Italia, che dir si voglia, quindi per regalare un po' di buon umore di questi tempi ce n'è proprio bisogno. E invece sia sabato che domenica ci sono le degustazioni guidate dal grandissimo sommelier e enogastronomo Otello Renzi che abbiamo chiamato Di Vino in Vino perché ci sarà la possibilità proprio di conoscere i vini locali nel migliore dei modi presentati dalla sua dente e autorevole voce di Otello Renzi. Abbiamo, grazie alla collaborazione con la Proloco di Acqualagna, abbiamo la possibilità di far trovare qui a Vallefoglia d'autunno proprio il tartufo di Acqualagna. E concludiamo con lo sport perché alle 22.20 di ieri sera la Vispesero ha comunicato l'esonero del suo allenatore David Sassarini. Un esonero non tanto sorprendente per risultati vista l'involuzione di nove partite senza vittorie costellate da sconfitte cocenti quanto per i tempi, ovvero dopo aver svolto l'allenamento del giovedì e alle porte di una sfida delicatissima con l'imolese. Domani alle 14.30 la Vispesero sarà infatti a Imola con il vice a Renzoni in panchina mentre la società completerà le valutazioni per individuare il sostituto dell'esonerato tecnico spezzino. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News ma come di consueto prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti su Rossini TV a cominciare dalla prima serata di questa sera che alle 21.20 è dedicata al centro diurno Margherita di Fano centro dedicato ai malati d'Alzheimer che nei giorni scorsi, come vi abbiamo già mostrato anche all'interno del nostro TG ha ricevuto la visita dell'attore Paolo Ruffini che diventa una sorta di testimonial dell'attenzione verso questa patologia. E poi domani torna puntuale alle 7.20. Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali come di consueto in diretta a condurla domani sabato 3 dicembre sarà il nostro Antonio Astuti. E andiamo anche a fare un passo avanti alla prima serata di sabato sera, una prima serata molto particolare perché alle 21.20 vi mostreremo un reperto video del 1992 a cura di Ettore Florio, un documentario sull'Istituto Statale d'Arte Mengaroni di Pesaro di 30 anni fa che dunque ci offre davvero una fetta di storia di questo istituto culturale appunto collocato negli anni 90 come detto appuntamento domani alle 21.20. Ed è davvero tutto per questa edizione di Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.